Un furgoncino, una pistola ed un cadavere crivellato di colpi sono gli elementi investigativi chiave che aiuteranno gli inquirenti a fare chiarezza sull'omicidio di Pietro Longobucco alias Uianchi Varrili, 51enne, boss dell'Andrina Coriglianese. E' suo infatti quel corpo saponificato ritrovato lo scorso 17 dicembre nelle acque del porto di Schiavonea a Corigliano Rossano dagli uomini della Capitaneria di Porto, perforato da tre colpi, uno al petto e due alla testa e con una farfalla sbiadita tatuata sul braccio. E insieme a quel corpo, pochi giorni dopo, i carabinieri sommozzatori hanno riportato a galla, sempre nello specchio di mare della grande darsenaionica, anche un furgoncino dove all'interno è stata rinvenuta una pistola. Elementi scottanti e probabilmente legati tra loro, già perché quel minivan è di proprietà di Antonino San Filippo, un trentenne pregiudicato, vicino al boss ucciso, e anche lui scomparso nello stesso periodo in cui non si ebbero più notizie del locale capondranghetista, poi recuperato cadavere. Misteri su misteri perché quella pistola, ritrovata nel furgoncino di cui proprio San Filippo aveva precedentemente denunciato il furto, nonostante sia rimasta in acqua, potrebbe essere ancora fumante. Il cannone, infatti, combacerebbe con le dimensioni del piombo che ha crivellato il boss Longobucco. Trovare il bandolo della matassa in un groviglio di storie e fatti che si incrociano per gli inquirenti è un affare complicatissimo. Il caso è passato nelle competenze della procura distrettuale antimafia di Catanzaro ed è in mano al magistrato Nicola Gratteri. Tutto, a questo punto, potrebbe ruotare attorno alla figura di San Filippo. Si cerca un altro cadavere o un uomo in fuga? Marco Lefosse per la Cineus 24.